Fabio, è una giornata difficile oggi, qualcuno ha entrato su qualcuno e su qualcuno è aperto, qual è il tuo bilancio? Ho guadagnato un po' su Dumoulin, però ho perso su Joachim, adesso ho una maglia per un secondo, comunque un corridore, un campione come Purito. Adesso c'è la tabla di domani, poi questo cronometro che sono molto importanti è l'ultima settimana, quindi adesso mi siamo a riposare per domani.